E' stata una domenica delle palme internazionale nella chiesa dei Santi Paolo e Bartolomeo ad Alcamo, dove infatti nel tardo pomeriggio si è esibito il coro statunitense Silver Tones, toni d'argento. Alcamo è una delle mete regionali scelte quest'anno dal liceo Strathaven High School di Wallingford vicino a Philadelphia, nello stato della Pennsylvania e negli Stati Uniti d'America, insieme a Panarea, Stromboli, Ragusa e Siracusa. Come spiega la parrocchia alcamese che ha ospitato il gruppo, si tratta di un liceo pubblico che non è ad indirizzo musicale ma che nel 1985 ha fondato una corale selezionando ogni anno con un'audizione 37 studenti che si distinguono per capacità vocali. Questo è il loro sesto viaggio in Italia e rappresenta per i ragazzi e le ragazze la conclusione del programma di studi iniziato a settembre, nonché l'opportunità di visitare i luoghi artistici italiani più significativi. Infatti ogni due anni il liceo sceglie una regione d'Italia e quest'anno la scelta è caduta sulla Sicilia, in particolare anche su Alcamo, dove la chiesa dei Santi Paolo e Bartolomeo, con il suo seicentesco scenario barocco, ha fatto la cornice dell'evento. In queste immagini il parrocco padre Francesco Mistretta con il direttore del coro John Schrankweiler e la guida turistica Stefania Fabrizi. Nell'occasione il gruppo si è subito anche sulla scalinata della chiesa di San Francia sul corso 6 a 1. Qui fa su supporto la crores? Grazie a tutti. Grazie a tutti.